YouTube, YouTube delle mie brame, dimmi chi è il canale più eccezionale, scoppiettante, meraviglioso, divertente di tutti, dimmi chi è Tu, 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 sei proprio scimonita Ma come osi? Come ti permetti? Io ti distruggo Stai calma, non mi fai girare cosa detti, eh? Regomboniti Che c'hai? Un dec nervoso? Bene, va bene, mi hai convinto ma stai calma, è per piacere che la calma è la virtù dei forti E poi che cos'è questo nome, Cindy, eh? Perché? Cosa vorresti dire sul mio nome? Ma che ne s'accio, ah, Cindy, sinduzza Che sei, Italo-Americana, ah? Oppuremente ti chiami Carmeluzza, eh? Dillo, dillo al confessionale tuo Ti chiami Carmela? No, non mi chiamo Carmeluzza Ti pare che io mi possa chiamare Carmeluzza? E allora per chi ti chiami, Cindy, sinduzza, bella Dillo, Luzio, dillo Sono affaracci miei E smettila di farmi perdere tempo E quante siete tiene, mei leoni? Quante sono? Forse millequattrocento? 1430, perché? E allora se sono 1432 E siamo a posto, siamo? Bando alle cianci, zio confessionale Adesso devi rispondere, prima domanda E va bene, spara, ammonin Caro zio confessionale, per prima cosa voglio sapere Quanto si può guadagnare su YouTube? Guadagni, sì, guadagni Ma che guadagni, che guadagni? Senti un po', zio confessionale Ora mi hai veramente scocciato Ah, pure E se no, che mi fai? Dimmi E te lo dico allo zio, ecco Per prima cosa i vantaggi sono tantissimi Pedrazza mia Perché, per prima cosa Tu fai un sacco di conoscenze nuove su YouTube Poi, vabbè C'è chi ti insulta Ma tu non ci devi fare caso Qua poi ti chiedono l'iscrizione E i loro canali Ma non ci devi fare caso Poi ci stanno parecchi guacquara qua Ma non ci devi fare caso Manco a chisti Tu devi guardare sempre le cose in positivo Pettate lo zio, capisci? E quale? Quale già te lo dissi Che devi fare tante belle conoscenze nuove Mi capisci? Ah E senti, senti Ma l'altro vantaggio è diventare famosi, giusto? Ma certo Come di che allora il vantaggio c'è Lo sapevo, lo sapevo Va bene, pambolina Abbiamo finito con le domande Perché ora vorrei andare a fare una bella Una bella mangiata No, ma che finito Mi devi ancora dire qual è il vantaggio più importante Come si fa a diventare famosi Ah, pure Parla spiffera Ma questa è una ricetta tantecchia preziosa Se in tuzza cara Dimmi Va bene, va bene, tatico Vieni a ca, avvicinati Allora Te lo dico Ma te lo dico come ultima risposta Perché non voglio che ti arrabbi magari E perché mi dovrei arrabbiare Sei un confessionale delle palle Ecco che cosa sei Non mi serve a niente Non mi sai dire nemmeno i vantaggi Gli svantaggi Niente Sei un confessionale inutile Ecco che cosa sei Non sai dirmi nemmeno i vantaggi Figuriamoci gli svantaggi Ma insomma Ma insomma io voglio i soldi Soldi Capito I soldi I soldi I soldi I voglio i soldi E voglio diventare famosa Mannaggia Sei inutile Non mi stai aiutando a fare niente Ok ok promesso Che vuoi sapere ancora mia regina Parla Oggi mi stai solo deprimendo Mi vuoi portare Gli hai la forza Basta Io No bedda mia Ma quando vai Devi sapere che è tutto collegato Collegato a cosa? Sempre una certa cosa che poi ti dico Mi capisci? No non ti capi Mannaggia te Accidentaccio a te Ecco Vedi petta Vedi che tu Davanti Mi pare Magari messa buona Ma dietro Non ti ho vista Perché Devi sapere Che lo svantaggio peggiore È chitto di non avere Magari No curo bombato Peggio di chitto della Lamborghini Mi ha Cosa? E il vantaggio allora qual è? Che tu d'averlo Magari Il culo si può sempre imbottire Magari 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 Magari